Benvenuti in questo nuovo video Cricut. Oggi vi presento Design Space e vedremo prima di tutto come funziona il primo accesso. Per prima cosa dovete scaricare il programma da design.cricut.com. Una volta scaricato dovete installarlo sul vostro computer. Una volta che il programma è installato, fate clic su Effetto all'accesso. Se avete già un profilo vi basterà inserire qui email e password. In caso contrario fate clic su Crea un ID Cricut per creare un account. Inserite i dati richiesti, quindi fate clic su Crea un ID Cricut. Una volta attivato il profilo potrete accedere e aprire Design Space. Una volta aperto Design Space vi ritroverete sulla pagina home. Qui troverete i vostri progetti, i video tutorial e altri progetti disponibili nella libreria o progetti della community. Nel menu a tendina sulla sinistra trovate l'opzione Nuova configurazione prodotto. È da qui che potete configurare la vostra nuova macchina. Cliccateci sopra e seguite tutti i passaggi. Selezionate il tipo di macchina che desiderate configurare, qui Macchina da taglio intelligente, poi il modello della macchina da taglio. Seguite infine tutte le istruzioni di Design Space per la configurazione della macchina. Abbiamo poi la calibrazione. La calibrazione è necessaria se utilizzate uno dei nuovi strumenti insieme alla vostra macchina. Vi consiglio di calibrare regolarmente la macchina per poter utilizzare al meglio tutte le nuove funzioni. Troviamo poi Gestisci materiali personalizzati. Qui potete aggiungere dei materiali, per esempio se state utilizzando un progetto non Cricut. Aggiorna il firmware. Con questa funzione potete semplicemente aggiornare la vostra macchina. Non è una funzione automatica, perciò è un'operazione da fare ogni tanto. Dettagli dell'account. Qui trovate tutte le informazioni relative al vostro account Cricut. Collega cartucce. Questa funzione è utile per chi ha una macchina Cricut di vecchia generazione, che funziona con le cartucce. Cricut Assess. Potete sottoscrivere un abbonamento che vi dà accesso a oltre 150.000 immagini e a centinaia di font, oltre che a una libreria di progetti in continua espansione. Per sottoscrivere l'abbonamento vi basterà cliccare qui e lasciarvi guidare attraverso i vari passaggi. Potete scegliere il metodo di pagamento e decidere se volete un abbonamento mensile o annuale. Impostazioni. Qui potete selezionare la lingua di Design Space, l'aspetto della griglia, le unità di misura, sistema imperiale, ossia in pollici, oppure sistema metrico in centimetri, e scegliere dove volete salvare i vostri progetti su Design Space. Informazioni legali. Qui trovate tutte le condizioni di utilizzo di Cricut. Nella sezione Novità trovate le nuove funzioni. Qui potete controllare se ci sono novità dopo aver fatto un aggiornamento, per esempio. Accanto a Paese è indicato il vostro paese. La guida vi permette di consultare tutte le pagine informative disponibili sul sito web Cricut. Apriamo la tela e andiamo a vedere la barra di sinistra. La funzione Modelli vi permette di simulare un modello di supporto sul quale andare ad applicare un vinile o un termoadesivo. Il modello non verrà stampato né tagliato, è semplicemente una simulazione. Nella sezione Progetti avete l'intera libreria di Design Space organizzata in categorie e potete anche fare delle ricerche in italiano. Nella sezione Immagini troverete diverse categorie, ma è possibile anche sfogliare tutte le immagini facendo clic sull'apposito comando e filtrare a seconda delle vostre esigenze. La sezione Testo vi permette di inserire degli elementi testuali nelle vostre creazioni. La sezione Forme vi permette di aggiungere o di creare da zero un progetto con le forme geometriche. Grazie all'opzione Carica è invece possibile importare delle immagini o dei file dal vostro computer. Ora parliamo della barra in alto. Per farlo avrò bisogno di un'immagine. Qui abbiamo la funzione Annulla, da utilizzare quando ci sbagliamo e vogliamo annullare l'ultima azione. Di seguito abbiamo la sezione Operazioni e da qui che selezioniamo ciò che vogliamo far fare alla macchina. Taglio, disegno, stampa quindi taglia. Deseleziona vi permette di annullare la selezione effettuata. Modifica contiene le opzioni Taglia, Copia e Incolla. Offset. Questa funzione crea un piccolo contorno intorno all'immagine ed è ideale per creare degli adesivi o delle atichette. In questo modo avremo sempre un contorno ben definito. Per mostrarvi la funzione Allinea devo aggiungere un'altra immagine. Ecco qui. Seleziono le mie due immagini, faccio clic su Allinea e poi su Allinea in basso. E le mie immagini si allineeranno esattamente sullo stesso livello, in basso per l'appunto. Abbiamo poi Disponi. Questa funzione ci permette di spostare i livelli dell'immagine. Qui per esempio, voglio che l'ananas passi dietro all'elefante. Faccio clic sull'ananas, poi Disponi e seleziono Sposta dietro a tutto. Qui vediamo che l'ananas è passato sotto all'elefante. La sezione Dimensioni. Qui potete ridimensionare un'immagine o un progetto, utilizzando le frecce o digitando direttamente le dimensioni desiderate. Se chiudete il lucchetto, le dimensioni si regoleranno in maniera proporzionale. Se invece lo aprite, potete deformare il progetto a vostro piacimento. L'opzione Ruota vi permette di ruotare l'immagine. Raggruppa vi permette di raggruppare tutte le immagini che volete in un solo livello e di modificarne le dimensioni in una sola volta. Con la funzione Separa è invece possibile separare i livelli per poterli modificare singolarmente. Con la funzione Duplica potete duplicare un livello. La funzione Elimina consente di eliminare un livello. La funzione Dividi funziona come uno stampino. Avete il vostro cerchio. Lo trascinate sopra al quadrato, li selezionate entrambi e cliccate su Dividi. Avrete così il vostro cerchio, il quadrato con un buco a forma di cerchio e il cerchio a parte. Trovate poi l'opzione Fondi, che funziona al contrario. Rimetto il cerchio dentro al quadrato, li seleziono entrambi e faccio clic su Fondi. Ecco che abbiamo un solo quadrato. Ora invece abbiamo il nostro quadrato e vogliamo disegnare un cerchio. Mettete il cerchio sul quadrato, li selezioniamo entrambi e fate clic su Collega. Quando andrete a vedere il tappetino, vedrete che è tutto sullo stesso tappetino da taglio. Al contrario, potete anche selezionare Scollega e vedete che i due livelli saranno separati. Quando avete un'immagine con più livelli di taglio, potete fare clic su Unisci livello e creare così un'immagine pronta per essere stampata e tagliata. Cliccando su Dividi livelli, avrete invece tutti i livelli separati e anche l'opzione Stampa prima del taglio. Con la funzione Sagoma, facciamo clic su ciascuna lettera per nascondere sull'immagine. Ecco le diverse funzioni di Design Space. Grazie per aver guardato questo video. Postate i vostri commenti e iscrivetevi al canale Cricat Italia per trovare altri video. A presto!